Amici, accogliamo con un grande applauso Matteo Salvini, facciamoci sentire con un po' di entusiasmo, un entusiasmo vero, sincero, come la nostra politica, come il nostro modo di fare, come il nostro modo di accogliere le persone e che amano il territorio nel territorio, persone che amano l'euro, grande applauso Matteo Salvini Amici, accogliamo con un grande applauso Matteo Salvini, facciamoci sentire con un po' di entusiasmo, un entusiasmo vero, sincero, come la nostra politica, come il nostro modo di fare, come il nostro modo di accogliere le persone che amano il territorio e nel territorio dedicano tempo e energia. Grazie, grazie per essere qui. Quarta edizione di Itaca riprende il viaggio che non abbiamo comunque mai interrotto. Lo sanno i tanti amici che sono qui, dell'impegno, delle energie che abbiamo messo per organizzare tutto questo in un momento difficile. Questa è una manifestazione covid free, quindi abbiamo garantito la sicurezza di tutti i partecipanti. Oltre 60 relatori in tre giorni. Lo dico a Matteo, molti hanno pensato di non fare manifestazioni di carattere politico, sociale e culturale perché temevano di confrontarci. Noi non abbiamo paura. Le nostre idee sono talmente forti che noi abbiamo l'orgoglio di rivendicarle anche alla vigilia di un impegno che è quello che vedrà tante città al voto. Itaca riprende il viaggio d'Ulisse, un viaggio che l'anno scorso, vi ricorderete, abbiamo concluso affidando la nostra nave a Matteo Salvini. Gli abbiamo chiesto di navigare per noi e noi insieme a lui. E qui ci sono tanti amici che sono presenti. Saluto e ringrazio Mario Baccini. Grazie Mario che interverrà domenica in un focus che sarà appunto centrale, economia solidale e futuro della città. Il senatore Francesco Giro, vero motore amico di tante battaglie, anche se qualche volta qualche battaglia ci ha rallentato, caro Francesco, vedrai, ripartiremo più forti di prima. Perché siamo convinti che non ci fermeranno mai. Ringrazio e saluto Claudio Lotito, mio presidente, mio amico, amico di Formello, amico di Roma, amico del Paese. Grazie e lo ringrazio per quello che fa, non solo come presidente di un portante club, ma anche come uomo di imprese. Saluto e ringrazio i deputati presenti, l'amico Andrea Grippa. Grazie Andrea, anche perché domani dedicherai del tempo in un confronto con tanti sindaci. Ringrazio Barbara Sattamartini. Grazie Barbara, perché Itraga ti porterà in un impegno lunghissimo che dura un mese e noi ti sosterremo. Ringrazio l'amministrazione, lo dico a Matteo perché vorrei un grande applauso per il nostro sindaco che sta vincendo e ha quasi già vinto una grande battaglia non contro l'infamia o la cattiveria ma contro un male che è ancora più brutto e quindi sindaco, sei tutti noi, dove sei? Ti vogliamo bene, forza, dai, il popolo di Itraga ti vuole bene. Ringrazio l'amministrazione comunale tutta, ringrazio Roberta Mazzoneschi che tiene i contatti, i rapporti con la Elta, ringrazio Giancarlo Zuccheri che è motore organizzativo, le tante associazioni. Ieri con San Marco appunto che è il presidente di Itraga abbiamo detto mentre guardavamo le maestranze al lavoro abbiamo detto in effetti siamo veramente dei pazzi perché solo dei pazzi in un momento come questo riescano ancora a organizzare una manifestazione così importante, una manifestazione che quest'anno si è arricchita anche con lo spazio liberi, liberi con tanti spazi culturali che riempiranno questa tre giorni. Matteo grazie a te per quello che fai per il paese, per quello che stai facendo per Roma, per quello che stai facendo per la regione e soprattutto per la speranza che dai al nostro paese. Noi siamo al tuo fianco, sappilo, l'abbiamo scelto tempo fa, abbiamo deciso di stare al tuo fianco, lo saremo sempre con lealtà, rispetto, amicizia e soprattutto con determinazione. Queste sono le caratteristiche che mettiamo a tua disposizione. Amici, grazie. L'ultimo applauso non merita Gianni San Marco che è un vecchio combattente, non reduce, come dice lo dito, non reduce, ma combattente. Questo è il popolo che vede i valori, quelli di Ulisse, quelli di quel tragitto bellissimo e di cui ritorno. Qui però, lo dico a Baccini, il cane Argo non ha la cuccia con i soldi dentro, stai sicuro? Qui abbiamo i cani senza cuccia e senza soldi dentro, in questo territorio. Siamo quelli che rispettano i valori tradizionali, i valori cari alla nostra civiltà, alla storia indoeuropea, alla nostra cultura anche cristiana. Ecco, noi qui li difendiamo, li riaffermiamo. Quindi, amici, iniziamo questo viaggio, che sia un viaggio ricco di soddisfazioni, un viaggio che vedrà ancora noi, insieme a Matteo Salvini, sul mare Mediterraneo, che ne vicheremo con i nostri idee, i nostri progetti e soprattutto con la nostra determinazione. Buon viaggio a tutti. Invito il direttore San Giuliano perché inizia l'intervista con Matteo Salvini. Grazie. Allora, noi ci siamo già salutati, adesso saluto il senatore Matteo Salvini e gli faccio subito una prima domanda. Tutti quanti conosciamo la storia dell'Odissea. Ulisse, dopo un lungo peregrinare e dopo tante battaglie, anche aspre, poi alla fine Aditaca riuscì a tornare e ristabilì l'ordine e la pace nel suo regno e nella sua isola. Si sente un po', diciamo, affascinato da questa storia. Innanzitutto grazie a chi ha la forza e l'ardire di organizzare eventi come questi in presenza. Grazie a voi per essere qua. Perché non ne posso più di riunioni a distanza, di vita a distanza, di sport a distanza, amore a distanza. E quindi grazie e rispetto all'anno scorso il buon Dio ci dà bel tempo, almeno per oggi, perché l'anno scorso pioveva a catinelle. E quindi è già un passo in avanti, merito degli organizzatori, ovviamente. Secondo, così ti do una notiziole, io non vivo a pane sondaggi a differenza della sinistra e non mi interessano, però venendo qua mi è arrivato il primo sondaggio per la ripresa autunnale della politica della persona che lavora con noi da anni e che è Enzo Risso, che un sorriso me l'ha portato via, visto che abbiamo passato l'estate, a sentirci dire che c'era Letta, 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 il PD, il PD, il PD. Te lo giro poi, direttore, perché mi è arrivato fresco fresco mezz'ora fa il primo partito in Italia, anche a settembre di quest'anno, è la Lega, con più di due punti e mezzo rispetto al PD che è il secondo partito. E quindi, poi per carità, nella vita tutto cambia, però Letta guarda da dietro per il momento. senza il viaggio e il coraggio. Dico a te quello che ho detto ai giornalisti, anche il tuo ottimo giornalista del Tg2 fuori. La Lega ha scelto di entrare in questo governo per amor di patria e non usciremo da questo governo. Non daremo mai la soddisfazione a PD e 5 Stelle di rimanere da soli per mettere tasse. Io me lo vedo. Letta ogni giorno dice, Salvini esci dal governo, Salvini esci dal governo, Salvini prendi la nave, invece di tornare per partire. No, amico mio? Perché un governo senza Lega, poi ovviamente ne va del mio fegato, perché stare al governo con Letta e Conte non è una passeggiata di salute. È come vedersi Lazio-Milan di fianco allo Tito. Quindi ci vuole... Però facciamo per 30 secondi questo scenario. Governo senza Lega, settembre. Passa al DDL-Zan. Follia. La mamma è la mamma e il papà è il papà. E i bimbi sono i bimbi. E con la vita e il futuro dei bimbi non si scherza. Quindi... E il DDL-Zan non è ancora legge per colpa di quei rompiscatole della Lega che da mesi stanno portando avanti la battaglia. Io ribadisco su questo palco che non è un problema di scelte di vita o libertà di vita, ognuno è libero di amare chi vuole. Fra queste centinaia di splendide persone non riesco a vedervi tutti. A me non interessa se ci sono eterosessuali, omosessuali, transessuali, lesbiche. Stasera ciascuno di voi può tornare a casa e cenare con chi vuole, passeggiare con chi vuole, far l'amore con chi vuole. Io sono per la libertà e quindi io non voglio che lo Stato entri in casa, in negozio. Ognuno... In quel DDL però si entra a gamba tesa nelle scuole elementari e questo non è possibile perché l'educazione dei bimbi non spetta allo Stato ma spetta alla famiglia, alla mamma e al papà. E quindi non voglio che sia l'Associazione Talde Italia a spiegare a mia figlia di otto anni cosa deve fare per via. Iussoli, che è una priorità sentita da tutti gli italiani ovviamente, lo Iussoli, senza la Lega al Governo, quello passa. Tassa di successione, tassa patrimoniale. Sento direttore girare per alcuni palazzi di alcuni ministri l'idea di... la formula tecnica è aggiornamento degli estimi catastali tradotto aumento dell'Imu. Io penso che la casa e le proprietà in Italia siano già tassate e super tassate senza bisogno di aumentare ulteriormente questa imposizione e siccome qualche genio di sottosegretario si è preso la professoressa Elsa Fornero come consulente un governo senza Lega vedrebbe il ritorno alla legge Fornero che sarebbe una sciagura e noi combatteremo con le unghie e con i denti per evitare il ritorno alla legge Fornero perché col lavoro e con le pensioni degli altri... Quindi il viaggio, direttore, noi siamo in viaggio. Certo, siamo in quattro, ogni tanto ho l'impressione che ci sia la Lega che rema da una parte e qualcuno che rema dalla parte opposta quindi tornare da dove siamo partiti però io la vita preferisco viverla da protagonista. non mi piace vedere quello che fanno gli altri e commentare quello che fanno gli altri si può vivere in due maniere o prendendosi la responsabilità delle proprie scelte magari sbagliando però vivere da protagonisti o ci si può far passare la vita addosso farsi scivolare la vita addosso commentando la vita degli altri. Ecco, io penso che chi è sotto questo tendone voglia essere protagonista del suo presente e del suo futuro e quindi mi ingoio qualche rospo però l'obiettivo è aiutarli italiani. Tra le riforme che l'Europa ci chiede lei ha un po' risposto a quella che voleva essere la mia domanda il governo andrà avanti c'è la richiesta forte di una riforma fiscale che poi è una riforma che questo paese aspetta da almeno 30 anni ricordiamo che l'Italia è uno dei paesi industrializzati con la più alta pressione fiscale fra le più alte pressioni fiscali e non sempre con un ritorno in termini di efficienza dei servizi perché è vero che gli svedesi e i norvegesi pagano più tasse di noi però si dice che in Svezia lo Stato ti assiste dalla culla alla bara assiste dalla culla alla bara quindi bisogna vedere anche il corrispettivo in termini di servizi e questo è un punto sul quale voi continuate ad insistere insisterete ancora sulla riforma fiscale Assolutamente sì grazie al lavoro dei parlamentari della Lega abbiamo evitato che nel disegno di legge delega che verrà poi approvato in Consiglio dei Ministri ci fossero nuove tasse patrimoniale, tasse in successione tassa sul risparmio perché l'evasione fiscale non la sconfiggi con nuove tasse o con la lotteria degli scontrini l'unico modo per sconfiggere l'evasione fiscale è abbassare le tasse e rendere possibile a tutti pagare le tasse altri modi per abbattere l'evasione fiscale non ne conosco non è il blitz della finanza dal panettiere di Formello che ti mette in regola i conti del Paese sicuramente la riforma fiscale direttore con PD e 5 Stelle non vedrà la luce nei prossimi mesi noi in questo momento su alcuni fronti siamo lì a limitare i danni a evitare i danni è chiaro che proporrò agli alleati di centrodestra siccome io continuo a parlare di centrodestra e credo nell'unità del centrodestra il primo punto del programma di governo di quando vinceremo le elezioni deve essere la flat tax il taglio delle tasse per rendere possibile a tutti pagare le tasse qua chi fa impresa o lavora in proprio o lavora del suo paga da un minimo del 50 a un massimo del 70% è chiaro che non è pensabile non è sostenibile pagare meno per pagare tutti è l'unico modo per riavviare questo Paese sicuramente qualche intervento lo potremo fare però già nei prossimi mesi ho già chiesto al mio Dipartimento Economia di prepararmi l'emendamento e voglio avere l'onore di metterci la prima firma nella prossima manovra di bilancio cancellare gli 8 miliardi di euro previsti alla voce reddito di cittadinanza che stanno devastando che si è rivelato un errore ammettere gli errori per qualcuno è debolezza per me ammettere l'errore ci sta lo abbiamo approvato noi è vero è completamente mancata la fase di reinserimento al lavoro nel senso che lì nei principi quando ce lo spiegavano i professori alla lavagna aiuti le persone espulse del mondo del lavoro per alcuni mesi ma poi tanto ci saranno le agenzie del lavoro i navigator che ti faranno tre proposte di lavoro e quindi tu dovrai raccogliere alcune di queste proposte di lavoro e quindi tornerai nel mondo del lavoro e tanti saluti al reddito dopo tre anni la pratica è che ad oggi a prendere reddito in cittadinanza sono circa un milione e 600 mila soggetti per un importo medio di 548 euro e qual è la situazione che quest'estate ovunque io sia andato dalla Calabria al Trentino da Roma alla Liguria dal Vento alla Sicilia gli imprenditori mi dicevano Matteo togli sto reddito di cittadinanza che non troviamo più gente che ha voglia di venire a lavorare perché è più comodo stare a casa e lavorare tre o quattro ore in nero e quindi alla prova dei fatti si è dimostrato un fallimento mentre Quota 100 ha dato il diritto alla vita e alla pensione a più di 300 mila lavoratrici e lavoratori e ha reinserito nel mondo del lavoro 200 mila giovani che sono subentrati a coloro che sono andati in pensione e quindi alla prova dei fatti si è dimostrato efficace il reddito in cittadinanza le agenzie per il lavoro reinseriscono quattro lavoratori su cento e quindi voi capite che se quei soldi invece di darli a chi sta a casa e poi magari si fa tre o quattro ore in nero e prende più di uno che si alza alle sei domani mattina li dai alle imprese che assumono un lavoratore fai qualcosa di più utile per la società questa estate è stata segnata da due grandi fatti uno ne parleremo dopo perché vorrei sentire anche il suo punto di vista il disastro occidentale in Afghanistan l'altro fatto significativo è stato un aumento esponenziale degli arrivi dei migranti sul nostro territorio non lo dico io non puoi dire così la Lamorgese è un ottimo ministro non lo dico io ma lo dicono lo dicono i dati del Biminale i dati uno li può andare io li ho fatti consultare i miei giornalisti sul sito del Biminale ieri Draghi ha fatto quella battuta e dice ah sarà interessante vedere l'incontro tra Salvini e il ministro Lamorgese tra il senatore Salvini e il ministro Lamorgese per me la politica è passione è sudore è come per gli organizzatori di Itaca io ho cominciato nel mille era l'autunno del 1990 quindi torniamo indietro di 31 anni ad attaccare i manifesti con la scopa e allora c'era la colla quindi secchio di acqua colla in polvere ti fottevi il vestito ti rovinavi la macchina e dico la marca della colla la Sicozen e io avevo siccome li attaccavo a Milano avevo l'elenco delle fontanelle pubbliche per andare a ricaricare il secchio però ricordo più di una volta quando riportavo a casa la mia Y10 mio padre la mattina non era molto felice di come di come gliela rendevo però per me la politica è passione è sudore è confronto mai scontro però la politica sono anche i numeri quindi uno può dire che oggi non è venerdì ma è martedì e però me lo devi provare oggi secondo me è venerdì sicuramente a sinistra qualcuno se Salvini dice che oggi è venerdì eh no è quasi sabato e non è più giovedì però non è venerdì i numeri oggi è uscito sul sole 24 ore noto organo sovranista populista fascista razzista eccetera eccetera sono usciti i dati delle tre stati 19, 20 e 21 a confronto sugli sbarchi gli sbarchi di quest'anno in pieno covid perché siamo nell'estate del covid del green pass per andare a Gardaland in pizzeria e al bar e sta in quattro le discoteche chiuse rispetto all'anno scorso più 80% rispetto all'anno prima più 591% e quindi qual è la soluzione non è che io avessi la bacchetta magica quando facevo il ministro però per fare un esempio le ultime navi di ONG che hanno portato in Italia il loro carico di esseri umani avevano bandiera norvegese francese tedesca e spagnola ora quando ero ministro e mi avvisavano c'è una nave con bandiera spagnola che si sta avvicinando cosa fai? chiami in Spagna io e il ministro degli esteri va bene che l'attuale ministro degli esteri è impegnato in altro però ai tempi io e il ministro degli esteri chiamavamo amico mio c'è una nave che batte la tua bandiera o li prendi o li prendi e quindi lo fai uno lo fai due lo fai tre volte e alla fine avevano capito che non era aria tanto che ad oggi 3 settembre nel 2019 gli sbarchi erano stati 5.000 a oggi 3 settembre 2021 siamo sopra 40.000 quindi fra 5.000 e 40.000 c'è mezzo stadio olimpico di mezzo è tanta roba oltretutto aggiungendo la riflessione che nel continente africano purtroppo la popolazione vaccinata è il 2% 2 quindi noi qua stiamo parlando di obbligo vaccinale tamponi green pass e abbiamo fatto sbarcare 40.000 persone nel 98% dei casi senza nessuna garanzia molti dei quali poi scappano evadono circolano e te li trovi in stazione termine quindi e la redistribuzione in Europa? l'hai vista te la redistribuzione in Europa quindi anche perché ci sono le elezioni in Germania a settembre le elezioni in Francia l'anno prossimo sicuramente nessuno muoverà un dito e quindi noi facevamo quando dico prima l'Italia non è uno slogan quando dico prima l'Italia significa che chi scappa davvero dalla guerra donne e bambini sono i benvenuti ma siccome il 90% delle persone che arrivano non scappano da nessuna guerra ma poi la guerra ce la portano a San Basilio o all'Esquilino e fanno il piacere di rimanere a casa loro perché noi ne abbiamo già di delinquenti nostrani senza bisogno di importarne dal resto del mondo e si può troncare ti faccio un esempio molto concreto i sindaci sanno di cosa stiamo parlando noi avevamo ridotto i famosi 35 euro al giorno per ogni immigrato ospitato dalla cooperativa a 21 e guarda caso molte cooperative che lo facevano solo per volontariato e generosità visto che non prendevano più 35 euro al giorno ma 21 erano scomparse e avevano smesso di essere caritatevoli e generose adesso quel genio dell'Alamorgese ha riportato a 30 gli euro al giorno quindi non vedo l'ora di avere questo confronto con lei e il presidente Draghi perché non possiamo chiedere sacrifici agli italiani e green pass agli italiani e intanto far sbarcare decine di migliaia di persone senza nessuna regola e senza nessun controllo per pietà non non voglio ricordare il rave party di Viterbo che c'è stato questo agosto 10.000 persone da tutta Europa coi tir e i camper hanno provato a organizzarlo in Belgio no in Germania no in Francia no dove l'hanno organizzato ormai uno apre la cartina e dice allora lì no lì no lì no sono arrivati in 10.000 ma non è che sono arrivati in 10.000 da Formello da Rieti da Frosinone da Latina e quindi non sei riusciti a beccarli alcuni arrivavano dalla Danimarca cioè da tutta Europa e il rave party droga alcol stupri un morto non è durato una notte uno dice hanno fatto il blitz mi hanno fregato sono entrati da sono entrati da Ventimiglia dal Brennero da Trieste in nave in aereo coi tir non li ho beccati sono stati sei giorni sei giorni ma poi il rave party è finito non perché è intervenuta l'anamorgese ma perché quelli là avevano finito la cocaina evidentemente hanno deciso di tornare a casa loro ecco solo per questo un ministro dell'interno dovrebbe farsi da parte perché abbiamo fatto la figura dei fessi in tutto il continente europeo questa è stata anche l'estate dei grandi fatti dell'Afghanistan io mi occupo molto di queste cose e c'è stata un evidente debacle degli Stati Uniti d'America della presidenza Biden ma questo lo hanno scritto fino anche il New York Times e il Washington Post che lo hanno sostenuto alle elezioni lei che idea si è fatto tra l'altro gli italiani e questo lo dobbiamo dire i militari italiani sono stati splendidi hanno fatto il loro dovere fino in fondo è bene e io ricordo anche i 54 militari italiani che sono morti in Afghanistan per dare la libertà a questo paese visto che oggi si ricorda la morte di un altro grande italiano come il generale Callalberto dalla chiesa non possono essere dimenticati questi 54 militari italiani che idea mi sono fatto che poi io alle 8 e mezza vado perché ho una riunione organizzata dall'ambasciatore dell'Afghanistan nella sua residenza col vice ministro degli esteri afgano perché molti italiani non lo sanno molti giornalisti non lo sanno ma anche molti politici non lo sanno c'è un governo in Afghanistan c'è una costituzione c'è un presidente in questo momento perché l'ex presidente è scappato portandosi via 160 milioni di euro e io mi domando se sia scappato da solo visto che sono arrivati due elicotteri a prelevarlo poche ore prima dell'ingresso dei talebani a Kabul non voglio fare il complottista però uno non scappa con 160 milioni di euro non nella cuccia del cane ma nelle valigette se non è d'accordo con qualcun altro quindi quello si è dato alle gambe però c'è una costituzione che prevede che in questo momento i poteri siano in mano al vice presidente che è asserragliato con alcune decine di migliaia di afghani resistenti nella regione del Panjshir che è a nord dell'Afghanistan io stasera incontro appunto il vice ministro l'ambasciatore con una serie di ambasciatori europei perché a vabbè è inutile commentare il passato quella degli americani tu sei un signore non è stata una debacle è stata una fuga vigliacca sgangherata scordinata inaccettabile incomprensibile incommentabile non si può riconoscere alcuna legittimità ai talebani perché io sorrido pensando alle femministe che fanno i girotondi in Italia poi qualcuno dice che però bisogna ragionare con i talebani che dicono che le donne è meglio se stanno a casa l'ex presidente del consiglio Conte ha detto che bisogna dialogare con i talebani e lo manderei a Kabul a dialogare con i talebani come commissario straordinario ha detto al dialogo anche perché chi difende i diritti giustamente degli omosessuali in Italia dovrebbe sapere che in alcuni paesi islamici c'è la pena di morte per l'omosessualità quindi non si possono avere questi due pesi due misure nessun dialogo con i terroristi islamici e infatti il ritorno dei talebani a Kabul ha rieccitato le organizzazioni di estremisti islamici in mezzo mondo dai fratelli musulmani a Hezbollah nel Libano Hamas in Palestina i mujahidini in Iran anche perché non so se ci avete fatto caso la demografia cioè il numero di abitanti nel mondo è una scienza esatta se tu metti insieme il miliardo e mezzo di cinesi tra i primi dieci paesi più popolosi al mondo c'è oltre la Cina il Pakistan che ha l'atomica l'India che è la seconda ma è un baluardo democratico lì in mezzo poi tu hai il Bangladesh e pensate che la seconda nazionalità per sbarchi in Italia ma uno pensa non so ai libici agli egiziani ai marocchini la prima nazionalità per sbarchi in Italia quest'anno la prima è la Tunisia e la seconda è il Bangladesh cazzo ma è lontano il Bangladesh da Lampedusa cioè per arrivare dal Bangladesh in 5.000 in Italia vuol dire che noi stiamo alimentando una catena della malavita organizzata non indifferente beh insomma tra i primi dieci paesi islamici c'è l'Indonesia c'è la Nigeria e quindi noi stiamo rischiando di dare in mano a un mix fra dittatura comunista ed estremismo islamico e il futuro dei nostri figli e per me a qualcuno non stava simpatica io la ritenevo e la ritengo tuttora una delle più grandi non giornaliste scrittrici ma intellettuali italiane del secolo scorso aveva ragione Oriana Fallaci l'interpretazione lettera del Corano è incompatibile con la nostra società c'è poco da fare ieri un ministro del governo il ministro Cingolani tariamo bene le parole non ha detto che vuole tornare tu cura al nucleare perché poi sarebbe anche difficilissimo per ricostruire una tecnologia nucleare ci vogliono 30 anni di lavori non è una cosa che si può fare ha detto soltanto prestiamo attenzione cioè prestare attenzione significa studiare guardare e valutare ha le ricerche tecnologico e scientifiche che si stanno facendo verso un nucleare più pulito diverso ma questo lo fanno in tutto il mondo credo che lo facciano le agenzie nucleari anche di paesi che hanno chiuso col nucleare però comunque guardano quello che succede e poi il ministro Cingolani è stato convocato d'urgenza da Giuseppe Conte l'appuntamento è fissato per il 14 per questa sua affermazione anche se lui veniva appunto ascritto come ministro del Movimento 5 Stelle diciamo che i 5 Stelle hanno un concetto di urgenza un po' particolare convocato d'urgenza al 14 è come Di Maio che viene a riferire sulla crisi afghana settimana prossima da ferragosto siamo arrivati al 7 Cingolani Cingolani è un uomo libero con la mente libera e ha fatto bene perché prestare attenzione è segno di intelligenza così come sarebbe segno di intelligenza che il sindaco l'attuale fortunatamente ancora per poco sindaco di Roma non esponesse i romani al pubblico ludibrio di dover e non pensavo che saremmo arrivati a tanto da ormai romano d'adozione Roma è costretta a esportare decine di tonnellate di suoi rifiuti a Napoli cioè la città che negli anni scorsi era nota per l'emergenza rifiuti la terra dei fuochi i roghi tossici le balle le ecoballe io le ho viste ecoballe tu sei campano Gennaro le ecoballe a Giuliano di eco non hanno niente e lì la gente muore di tumore ebbene grazie all'amministrazione comunale e anche regionale perché i meriti vanno equamente distribuiti Roma è in emergenza rifiuti peggio di Napoli e qua bisogna avere il coraggio di dirlo servono a Roma e nel Lazio gli impianti che trasformino i rifiuti in energia e in ricchezza e in calore punto basta servono i termovalorizzatori come in tutto il resto del mondo sviluppato altrimenti altro che nucleare li metti giù in discarica ma secondo te è più eco compatibile un impianto che dalla monnezza porta l'energia magari sotto costo a casa dei cittadini di Formello o andare a interrare e a pagare il triplo perché poi i cittadini di Roma e del Lazio in generale pagano la Tari molto più alta rispetto alla media italiana quindi paghi la tassa rifiuti più alta hai la monnezza per strada e hai ormai dei gabbiani che sono pterodattili non sono gabbiani sono animali mitologici altro che Itaga quindi bisogna avere il coraggio di dirlo i rifiuti a Copenaghen il termovalorizzatore è nel centro della città con una tecnologia italiana e hanno fatto una pista da sci sul termovalorizzatore nel centro della città e qua stiamo ancora qua io per due volte penso mi hanno respinto a Rocca Cencia perché volevo fare un sopralluogo nell'impianto di trattamento dei rifiuti segreti di Fatima per due volte il comune di Roma mi ha impedito di entrare nell'impianto di trattamento dei rifiuti a Rocca Cencia evidentemente o hanno qualcosa da nascondere o hanno qualcosa da nascondere dateci una mano perché pensare a Roma per altri cinque anni in mano alla raggi mi fa venire la tristezza quindi non che i quartieri sia meglio adesso do io una notizia perché oggi un importante quotidiano britannico ha raccontato con stupore e lo comprendiamo la vicenda dei cinghiali che scorazzano per le strade di Roma poi dopo magari lo faccio vedere pure senatore un'ultima domanda diamo un chiarimento definitivo su la vicenda green pass obbligo vaccinale perché poi è una vicenda che si presta anche a interpretazioni malevole sono arrivato qualche minuto in ritardo perché ho fatto una riunione ormai si dice in tempi moderni uno zoom una call con i sette governatori della Lega che è stata assolutamente utile per più di un'ora Friuli Venezia Giulia Veneto Trentino Lombardia Umbria Sardegna e Calabria in cui abbiamo messo le linee guida fra virgolette come usa dire il CTS quindi per quello che riguarda il vaccino visto che ormai il 70% della popolazione italiana sopra i 12 anni è vaccinata e l'ha fatto liberamente la Lega era è e sempre rimarrà per la volontarietà vaccinale siamo contro ogni tipo di obbligo l'obbligo vaccinale to cure a stasera 3 settembre 2021 esiste in tre paesi Tajikistan Turkmenistan e Indonesia e con tutto rispetto per tutti i popoli del mondo non penso che siano modelli democratici da seguire la gente sta scegliendo si sta informando sta valutando io ho scelto liberamente di vaccinarmi da 48enne in buona salute e questo non ritengo che mi dia il diritto di imporre la mia libera scelta a un altro 48enne che sarei libero di fare la sua scelta quindi dal punto di vista della volontarietà paga la spiegazione l'educazione non paga l'obbligo la costrizione la multa del divieto green pass green pass per i grandi lo stadio se mi chiedono il green pass per andare allo stadio dove siamo in 50 mila al concerto di vasco per 50 mila ai grandi assembramenti o in alcuni luoghi a rischio come può essere l'ospedale come può essere la casa di riposo per carità di dio ci sta mi rifiuto di pensare al green pass esteso a tutti pensiamo al green pass in metropolitana a Roma alle 8 del mattino il green pass deve essere uno strumento che permette di lavorare non può essere uno strumento che permette di licenziare o discriminare quindi questo è il nostro punto di vista per tutti coloro che non possono perché ci sono anche milioni di persone che non possono vaccinarsi per motivi i tamponi noi abbiamo chiesto i tamponi rapidi e gratuiti faccio un esempio di vita reale mio figlio sta andando adesso a vaccinarsi questi minuti a Milano non perché ne fosse convinto ma perché cominciano gli allenamenti di calcio settimana prossima e lui avrebbe dovuto farsi tre tamponi a settimana costo per tampone 30 euro ora io non voglio un'Italia per ricchi e per poveri dove i ricchi possono scegliere e chi è meno ricco invece è obbligato a fare qualcosa se lo Stato mi impone una cosa mi mette anche a disposizione gli elementi per andare avanti ultima riflessione l'abbiamo proposto in commissione e ce l'hanno bocciato e lo riproporremo in aula tu Stato mi non dico mi imponi ma fai di tutto per portarmi a vaccinare bene però se ci sono dei danni conseguenti mi risarcisci tu che mi stai portando a fare questa scelta non può essere sulla pelle del cittadino che non è medico la conseguenza di quello che fa quindi tamponi per chi non se li può permettere green pass per le situazioni a rischio senza rovinare la vita della gente spiegazione a chi ancora non è in sicurezza che il vaccino in alcune condizioni salva la vita penso siano scelte di buon senso quello che mi sta preoccupando di queste di queste settimane è che c'è qualcuno che sta lavorando per dividere gli italiani fra i buoni e i cattivi fra i brutti e i belli qua non ci sono no vax si vax no green pass si green pass la salute e la pellaccia sta a cuore a tutti ho fatto la riunione con i governatori ovviamente ritornare con la mente alle terapie intensive alle ambulanze ai ricoveri è qualcosa di di drammatico quindi tutti devono potersi mettere in sicurezza quando però parlo di libertà io voglio che i miei figli crescano in un paese libero libertà educativa libertà di impresa libertà di stampa libertà di parola libertà religione e io preferisco sempre la scelta che non la costrizione l'obbligo la multa o il divieto gli italiani si stanno dimostrando di buon senso stiamo stiamo dando lezioni ad altri paesi che pensavano che gli italiani avrebbero fatto la solita confusione e invece io penso che stiamo dimostrando di essere un grande popolo anche in questi mesi bui non vedo l'ora però di lasciarmi alle spalle questo covid per tornare una vita libera e serena con la gente che esce che sorride che studia che lavora e penso che il peggio sia passato e spero che il peggio sia passato grazie a voi e quindi non non grazie ad altri un'ultimissima proprio cosa anche per appagare una curiosità giornalistica ci separano cinque mesi all'incirca dall'elezione del nuovo capo dello Stato cosa succederà? E chi lo sa sarà sarà fra gennaio e febbraio si sa che il nuovo capo dello Stato lo eleggono mille e nove persone se non ho fatto male i conti che sono deputati senatori senatori a vita e una sessantina quasi 60 membri eletti dalle regioni quindi saranno in mille a eleggere fra gennaio e febbraio il capo dello Stato di questi mille coloro che fanno riferimento all'area del centrodestra fra virgolette a stasera sono 450 quindi non manca tanto e io con questo non ti sto dicendo che vogliamo eleggere un capo dello Stato di centrodestra non mi dispiacerebbe io penso che Berlusconi sarebbe un ottimo presidente della Repubblica perché in politica estera ha fatto meglio di molti altri ad esempio però parlarne il 3 settembre lascia il tempo che trova sicuramente ho notato una cosa non so se l'avete notato anche voi che quando Letta settimana scorsa ha detto no Draghi non deve andare a fare presidente della Repubblica Draghi deve star lì fino al 2023 io ho capito due cose uno che questi hanno una paura matta di andare a votare perché sanno che quando si va a votare stavolta vinciamo noi e quindi due non vuole Draghi al Quirinale perché nel PD ci hanno almeno 30 aspiranti presidente della Repubblica da Prodi a Veltroni a Franceschi eh no eh no è amica mia e quindi però secondo me ha mancato di rispetto prima a Draghi perché non è che lo pigli di qui e di là e lo metti a seconda di dove ti serve e secondo secondo agli italiani ecco io non ho nemici nella vita in politica o avversari anche perché io sono tornato a Roma ieri dopo una settimana di respiro e di vacanza bella con mia figlia in montagna in Trentino e quando tu hai per una settimana l'enorme fortuna di addormentarti nel lettone di fianco a tua figlia di otto anni di svegliarti la mattina di fianco a tua figlia di otto anni ti rendi conto che il buon Dio ci fa un regalo così grosso che perdere parte della nostra giornata a incazzarci a odiare non sempre a sinistra c'è lo stesso atteggiamento nel senso che voi per il fatto di essere qua siete complici del peggior salvinismo leghismo fascismo nazismo razzismo populismo ne ho sentite ne ho sentite di tutti i colori di là veramente spesso c'è astio rancore gelosia cattiveria vi ricordate la tassa sulle barche io per formamenti mia personale se c'è uno che ha successo e uno che è in difficoltà la mia preoccupazione non è malcomune mezzo gaudio punisco quello che ha successo così lo porto verso il basso e siamo tutti sfigati e contenti no io voglio un paese dove quello che ha successo ne abbia sempre di più e quello che è più in difficoltà venga aiutato ad aver successo anche lui perché ricchezza non è una parolaccia noi abbiamo bisogno di un paese bello sicuro ma ricco i nostri genitori negli anni 60 e negli anni 70 ci hanno regalato il miracolo economico l'Italia cresceva due zeri non ci possiamo rissegnare a una crescita dello zero virgola e noi da che cosa lo vediamo il fatto che siamo fermi e chiudo con questa riflessione perché l'ho fatta anche al meeting di Rimini e l'ho fatta anche col presidente Draghi l'ultima volta perché alcuni numeri penso che abbiano stupito anche lui e non parlo del PIL del PNRR del deficit dei dati macroeconomici l'import export le culle che è un dato economico per me più rilevante del rapporto deficit PIL noi abbiamo chiuso il 2020 col dato peggiore dall'unità d'Italia oggi 404.000 bambini nati il minimo storico 404.000 e il 2020 si è chiuso con 746.000 morti quindi senza essere laureato alla Bocconi vedo che abbiamo perso 340.000 cittadini in un anno ma al di là del covid se andiamo agli anni prima il rapporto fra nati e morti non è molto diverso noi ogni anno perdiamo una città come Firenze e quando ogni tanto io accendo la televisione non te anzi ringrazio il direttore del TG2 perché ha uno dei telegiornali e uno degli approfondimenti TG2 post più seri più seri non più amici a me non interessano i giornalisti amici a me interessano i giornalisti seri e purtroppo in Rai e non solo in Rai i giornalisti seri e liberi si contano sulle dita di due mani e non è facile trovarli al giorno d'oggi ma al di là di di questo è accendi la tele è la green economy è il monopattino è le auto elettriche e ormai se non c'hai una macchina elettrica e il monopattino sei uno sfigato va bene fra 30 anni nel 2051 noi avremo un'Italia piena di auto elettriche fatte in Cina piena di monopattino tutti andremo in giro respireremo l'aria con i fiorellini accarezzeremo i cinghiali e daremo da mangiare i gabbiani con le culle vuote il successo di un paese e di un governo io lo conto non sul rapporto deficit pil ma su quanti bambini vengono al mondo perché se tornano a nascere più bambini vuol dire che ci sono ragazzi e ragazze che scommettono sul loro e sul nostro futuro questo è l'indicatore economico che per me è più importante e magari solo per dire questo c'è qualche fenomeno a riempire le culle apologia chissà che messaggio avrà voluto mandare no a me piacerebbe nascessero dei bambini molto semplicemente bianchi, neri, gialli, rossi, verdi non mi interessa nascessero dei bambini e quindi ce la metteremo tutta saranno mesi difficili saranno mesi complicati vi chiedo di portare pazienza di stare uniti e lo dico anche agli organizzatori di questo straordinario evento non guardiamo a domani mattina ma guardiamo all'Italia dei prossimi 30 anni e io sono convinto che torneremo sia come città di Roma sia come paese al posto che ci compete mai perdersi d'animo mai perdere fiducia mai rassegnarsi penso che il peggio sia alle spalle se questa comunità continua a dimostrare la compattezza che ha dimostrato nei mesi passati non ci ferma nessuno ne sono stra-convinto se voi non mollate io non mollo grazie a tutti per l'attenzione e grazie al senatore Salvini grazie a tutti quando sei con me i can fly oh yeah every day i wonder why peace on earth so hard to find but your peace begins inside in our hearts and in our minds hearts and minds we can see and in all means you and me where we know can set us free we arrange reality reality is what we know we can change a river's flow and a sea we can change we can change to build a home moments where my heart will stay see me when I'm far away makes no difference what they say as long as you will be my sunshine when you